Allora oggi vogliamo vedere le successioni divergenti, il terremoto di irregolarità per le successioni monotone e le forme indeterminate, questi sono i primi argomenti. Allora abbiamo la successione di numeri reali, si dice che a con n diverge a più infinito oppure si scrive che il limite di a con n è uguale a più infinito, se e solo se per definizione per ogni m appartenente a r esiste un ince n, tale che se n è maggiore o uguale a n, allora a con n è maggiore di n. Quindi questa definizione è in parte simile a quella che abbiamo già visto di successione convergente ma ci dice che la successione diventa definitivamente più grande di ogni numero quindi diventando molto grande, questo cattura il concetto che la successione si avvicina. Ora voglio solo far riflettere su una cosa, se io qua scrivessi per ogni epsilon un appartenente a r, oppure anche per ogni epsilon maggiore di 0, qui usassi epsilon, la definizione sarebbe significativa esattamente la stessa, perché quando scrivo per ogni, è chiaro che qua la cosa è tanto maggiormente significativa quanto m è grande, quindi se scrivessi per ogni epsilon maggiore di 0, qui epsilon sarebbe significativo quando è grande. Noi però come notazione cerchiamo di usare una notazione che più o meno rispetti quello che stiamo scrivendo, cioè usiamo epsilon quando una notazione è significativa quando epsilon è maggiore di 0 ma piccolo, qua usiamo m con la lettera maiuscola per dire che effettivamente la cosa è significativa quando m è grande, però non dovete farvi trarre l'inganno, cioè la notazione deve aiutare, ma in qualche modo la definizione deve essere capita a un livello più profondo, altrimenti rientriamo nel paradosso dell'etichetta, che abbiamo visto nelle prime lezioni di oggi. Allora facciamo degli esempi, un esempio, primo esempio è la successione n, successione n, cioè la successione dei numeri naturali, è chiaro che tende a più infinito, quindi per n che tende a più infinito, questa volta lo scrivo per esteso, di n qui poi, perché lo scrivo per esteso? Molto spesso uso la notazione abbreviata, proprio per farvi capire che quando io uso l'indice qua n, da questa definizione segue che il limite della successione dei numeri naturali tende a più infinito, che quando dice, se figlio m sia m appartenente a r, allora prendiamo n uguale il valore assoluto, la parte intera del valore assoluto di m più 1, allora se n è maggiore o uguale di n, implica n maggiore uguale di n, perché ci ho dovuto mettere il valore assoluto, perché io m, è chiaro che non sarebbe significativo, perché se m è negativo va bene qualunque n maggiore di 0, però se ne che l'avessi preso negativo, per ottenere un numero qui, intero, positivo, lo devo fare in valore assoluto, poi prendo la parte intera, poi aggiungo 1 e sono sicuro che n è più grande che rispetto alla definizione, allora questo fatto che il limite della successione dei numeri naturali è più infinito, secondo questa definizione, quindi che la successione dei numeri naturali diverga, giustifica anche la notazione che noi usiamo per i limiti, limite per n che tende a più infinito, perché l'indice della successione, quando abbiamo a con n, quindi a con 1, a con 2, a con 3, l'indice della successione 1, 2, 3 cosa può fare? Può tendere solo a più infinito, quindi diciamo, la notazione n che tende a più infinito ci dice, diciamo, viene usata per rispettare il fatto che l'indice della successione diventa grande, questo sia in questa definizione che nelle definizioni precedenti, ok? va bene, esempio 2, prendiamo n quadro, il limite per n che tende a più infinito di n quadro fa più infinito, qua non voglio, posso benissimo rifare il ragionamento e usare la definizione, però per dimostrare che questa successione tende a più infinito posso usare il teorema del confronto, noi abbiamo visto il teorema del confronto nella versione per le successioni convergenti, se voglio scrivere il teorema del confronto per le successioni divergenti allora, cosa dirà questo teorema del confronto? Lo scrivo qua perché tanto si tratta di capirlo più che di impararlo, diciamo, si tratta di capire il concetto, allora diciamo, siano a con n e b con n due successioni di numeri reali, tali che, prima proprietà, a con n è sempre più piccolo di b con n per ogni n appartenente a n, la seconda proprietà è il limite di a con n faccia più infinito, cioè la successione sia divergente positivamente, si dice divergente che è il limite di a con n, allora qual'è la tesi? Allora, il limite di b con n fa pure infinito, ok? La dimostrazione di questo teorema, ve la dico a parole, ma poi provate a metterla voi per iscritto a modo di esercizio. Allora, come funziona la dimostrazione? Fissiamo un m appartenente a r qualunque allora esisterà un indice n, tale che se n è maggiore di n, a con n sarà maggiore di n ma per lo stesso, diciamo da n in poi, b con n è più grande di a con n e quindi a maggior ragione pure lui è maggiore di n, quindi se a con n tende a più infinito, b con n che è più grande non può far altro che tendere pure lei a più infinito, cioè è veramente un rigo, questo qua non è al di là della vostra capacità, lo potete fare, potete fare e allora perché n quadro tende a più infinito? Perché n quadro è maggiore o uguale di n per ogni n, questa tendeva a più infinito, quest'altra tende a più infinito chiaro? Quindi abbiamo un paio di esempi, se invece voglio dimostrare esempio 3 allora prendo a con n uguale alla radice quadrata di n per ogni n appartenente a n anche questa tende a più infinito, però qua non posso usare il teorema del confronto perché se vado a confrontare, questa qua lo so che tende a più infinito, questa qua lo so che tende a più infinito ma se la vado a confrontare con queste due, la radice di a con n, la radice di n è più piccola quindi non posso dire, non posso usare il teorema del confronto in questo caso posso fare un ragionamento diretto dico sia m maggiore, scusate, sia m appartenente a r allora prendo a con n, scusate, prendo n uguale la parte intera di m quadro più uno che è sicuramente maggiore di m quadro allora se n è più grande di mi che è maggiore di m quadro allora la radice di n è sicuramente più grande di m uno dice se m è negativo, era negativo, meglio ancora, questo è positivo, questo è negativo maggiore di m quadro ok, quindi si tratta di sviluppare questi ragionamenti, di capire allora la definizione di successione convergente l'altra volta, di successione divergente positivamente questa volta è una successione che implica un meccanismo, la definizione implica un meccanismo quindi per ogni m devo trovare un i allora io devo seguire questo meccanismo e fare un ragionamento se voglio controllare questa cosa quindi l'importante è che sviluppiate questo tipo di ragionamento oh, ci sono solo le successioni divergenti positivamente no, ci sono pure quelle divergenti negativamente cioè adesso diamo un'altra definizione oh, quasi ci mettevo m appartenente a r eppure m maggiore di 0 la definizione, questa è una questione di gusti, può cambiare da libro a libro non cambia chiaro la definizione è esattamente la stessa perché è chiaro che se io riesco a soddisfare questa definizione con un numero positivo la posso soddisfare anche con tutti gli m negativi se è definitivamente maggiore di 3 è definitivamente maggiore di meno 5, di meno 7, di quello che vuole ok allora l'altra definizione prendiamo a con n successione di numeri reali si dice che la successione diverge negativamente se si scrive il limite di a con n uguale a meno infinito se solo se per definizione per ogni m appartenente a r esiste un indice di ni tale che se n è più grande di ni allora a con n è minore di m cioè stavolta la cosa sarà significativa quando n è molto piccolo cioè molto negativo per esempio meno 100 meno 200 meno 1 miliardo meno 1 miliardo più è piccolo m piccolo diciamo non piccolo in modo assoluto diciamo più è diciamo negativo m più è difficile da soddisfare quella condizione ovviamente qua se io scrivessi per ogni m maggiore di 0 potrei usare una definizione equivalente però qua dovrei scrivere a con n minore di meno m allora questa scrittura sembra un po' diversa dalle altre ma se ci riflettete è esattamente questa scrittura e due valenti a questo perché? perché se io mi voglio diciamo voglio fissare le idee per me gli m li voglio prendere solo positivi qua la definizione è significativa diciamo la condizione è significativa quando il numero è molto negativo e per ottenerlo molto negativo ci metti meno davanti chiaro? quindi esercitatevi un po' prendeteci un po' di tempo a capire perché questa riga e questa riga sono equivalenti e provate anche a metterlo per iscritto perché una cosa ma se si va bene ho capito però se non l'hai capito bene se non lo sai ripetere non l'hai capito bene ok quindi noi adesso abbiamo le successioni convergenti le successioni divergenti e poi abbiamo le successioni che non fanno nulla perché se prendete per esempio la successione meno 1 alla n quella che abbiamo visto l'altra volta se vi ricordate era limitata ovviamente una successione che diverge non può essere limitata c'è scritto nella definizione questa non è limitata dall'alto e quest'altra non è limitata dal basso se deve divergere come fa a essere limitata si vede dalla definizione provate a scriverlo anche questo per esercizio è banale ma quindi la successione meno 1 alla n uno dice vabbè quella non convergeva perché magari diverge no quella là non converge né diverge una successione che non converge né diverge potremmo dire che oscilla per esempio ma non è importante dare una definizione diciamo dare un nome in questo caso l'importante è sapere che ci sono delle successioni che commettono delle successioni che divertono positivamente delle successioni che divertono negativamente e poi ci sta il male magnum di tutte le altre successioni che non fanno nulla di tutto ciò è chiaro fino a qui? ok adesso andiamo a vedere il problema di regolarità delle successioni monotone sono di regolarità Allora dobbiamo prima dare definizione di che cosa sia una successione monotona Allora prendiamo una successione come al solito a con n, una successione di numeri reali La con n si dice monotona, l'accendo va sulla terza o, monotona E adesso vediamo di che tipo, ci sono 4 tipi Strettamente crescenti Se solo se per definizione a con n è minore di a con n più 1 per ogni anno Si scrive così a con n e si mette una freccia che va verso l'altra Quindi una successione si dice strettamente crescente quando i valori crescono Quando l'indice cresce i valori della successione crescono Strettamente Non decrescente Invece di dire non decrescente si può anche dire debolmente crescente Se solo se per definizione a con n è minore uguale di a con n più 1 Però niente Si scrive a con n Una freccia che va verso destra in alto Quindi stavolta Gli svalori della successione crescono lo stesso Però non siamo sicuri che a ogni incremento dell'indice Il valore cresca in maniera, diciamo, aumenti Potrebbe anche rimanere uguale Qua si potrebbe usare debolmente crescente Si può usare anche il termine crescente Però il termine crescente è ambiguo Perché crescente potrebbe essere sia strettamente crescente Che debolmente crescente Allora il problema è che per molti testi Crescente può significare debolmente crescente Per qualche testo crescente significa strettamente crescente Perché dicono crescente e debolmente crescente Per risparmiarsi la parola strettamente Quindi a quel punto diventa ambiguo Perché uno dice Vabbè, ma il mio testo dice così E quell'altro dice Eh, ma il mio dice quella Basta intendersi Allora, io qua perciò ho messo due scritture Che sicuramente sono non ambigue Perché strettamente crescente Può significare solo minore stretto E non decrescente Può significare solo minore uguale Però potreste incontrare altre scritture Dal contesto si capisce se corrisponde al minore o al minore uguale Poi abbiamo Poi abbiamo Strettamente Decrescente Se solo se per definizione A con n è maggiore A con n è maggiore di A con n più Per ogni n Che si scrive così Mettiamo Non crescente Ok? Se solo se per definizione A con n è maggiore o uguale A con n è maggiore o uguale A con n è maggiore Ok? Va bene Anche qua Invece di dire Non crescente Potremmo dire Debolmente decrescente Allora Con queste definizioni Abbiamo il seguente Teorema 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 Di regalità Delle successioni monotone Ovviamente il teorema lo enuncio per le successioni note crescenti Poi un analogo teorema Teorema Se vuoi Se vuoi Ti puoi spostare Se vuoi Ti puoi spostare Allora Allora Dico Sia A con n Una successione monotona non decrescente Allora 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 Esiste Esiste il limite Di iacone n E' uguale all'esterno superiore E' uguale all'esterno superiore E' uguale all'esterno superiore Meglia con n Quasi Più infinito Quindi Una successione monotona Non decrescente Quindi i valori stanno crescendo Ha sempre limite Secondo le definizioni che abbiamo dato L'unica differenza può essere Se è limitata Per esempio sappiamo che è minore uguale a 10 Che succede? Che deve succedere? Che il limite Deve esistere Finito Quindi deve essere un numero reale Secondo la definizione di Dell'altro ieri E quindi Sarà non superiore a 10 Se invece la successione non è limitata superiormente La successione ha limite Ma questo limite è più difficile Cioè la successione diverge Non è più difficile Ok Andiamo a fare la dimostrazione La dimostrazione la faccio sull'altra Allora Facciamo il primo caso Questo qua Allora noi sappiamo 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 Che A con n è minore uguale a con n più 1 Per ogni m appartenente a n Allora Allora Innanzitutto Se vado a fare Se vado a fare l'estremo superiore Nell'insieme Degli valori Degli valori Degli a con n Quindi l'estremo superiore Quindi l'estremo superiore Che è il minimo dei maggioranti E' più piccolo Se vi ricordate la definizione di estremo superiore Funziona Adesso Adesso cosa so Prendiamo Diciamo sia epsilon maggiore di 0 Andiamo a prendere lambda meno epsilon Quindi Lambda meno epsilon È minore di lambda Quindi Lambda meno epsilon Non è Un maggiorante Perché Se vi ricordate Lambda È il minimo Dei maggioranti Di questo insieme Lambda meno epsilon Non È un maggiorante Della successione E dunque Esiste un elemento della successione Più grande di lui Quindi esiste ni Appartenente a n Tale che A con i È maggiore di lambda meno epsilon Però Noi cosa sappiamo? Che la successione è monotona Quindi A con i è più piccolo di A con i più 1 Che è più piccolo di A con i più 2 Che è più piccolo di A con i più 3 Ma in ogni caso tutti gli elementi con un indice più grande di ni Sono tutti quanti Minori di lambda Ho questo per ogni n Maggio o uguale di ni Per quale motivo? Se n è più grande di ni Io quando vado a scrivere questa Catena di disuguaglianze Facilemente di disuguaglianze Facilemente di disuguaglianze Facilemente di disuguaglianze E a un certo punto arriverò a ni A n Però Anche A con n Essendo un elemento della successione È comunque più piccolo di lambda Perché lambda era un maggiorante della successione Più piccolo dei maggioranti Ma sempre un maggiorante A sua volta Lambda è più piccolo di lambda più epsilon Quindi io cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che Per ogni epsilon maggiore di 0 Esiste un indice ni Tale che Se n è più grande di ni A con n È compreso tra Lambda meno epsilon E lambda Se vi ricordate la definizione Questo significa Quindi Il limite Di a con n Vale esattamente la Andiamo a fare il caso 2 Il caso 2 è ancora più facile Per ogni m appartenente a r Esiste Un indice ni Tale che A con n A con n Sia maggiore di m Per quale motivo? La successione non è limitata superiormente Quindi Io fisso m M non può essere un maggiorante Ci deve stare un elemento della successione Per più grande di m Questo cosa mi dice Che Se n È più grande di ni Allora A con n È Maggiore o uguale Di a con n Che È la maggiore di m Cioè da questo segue Se a con n Lo prendo come dice Più grande di ni Ovviamente siccome la successione Cresceva A con n Sarà maggiore di a con n E qui Sarà a sua volta Più grande di m Che è esattamente quello che dovevo dimostrare Vedete Se prendete la definizione di stamattina Questo mi dice che Anzi Scriviamola esplicitamente Quindi Il limite Di a con n È uguale a Più infinito Bene? Quindi Sostanzialmente Come sono fatte le successioni monotone Non decrescenti A ogni incremento dell'indice O crescono o rimangono uguali Quindi tendono a crescere Però Se sono limitate dall'altro Quindi se c'è un tetto che non possono sfondare Devono tendere a un limite Ora Se il tetto che non possono sfondare è 10 Non vuol dire che il limite sia 10 Perché quello è un maggiorante Il limite all'estremo superiore Che è il minimo E i maggioranti Potrebbe essere 7 Ok? Però noi Dal fatto che ci sia un tetto che non possono sfondare Sappiamo che il limite ci sta Ed è finito Se invece Non sono limitate superiormente Quindi Che vuol dire? Vuol dire che crescono oltre ogni Numero prefissato E questo che vuol dire? Vuol dire che la successione È divergente Positiva E quindi Una successione che cresce A solo due comportamenti possibili O se ne va più infinito O tende a un limite Allora Per esempio La successione che abbiamo visto L'altro ieri 1 più 1 su n alla n Noi abbiamo dimostrato Facciamolo qui ad esempio 1 più 1 su n alla n È una successione monotona strettamente crescente Ma inoltre Ma inoltre Sappiamo che 1 più 1 su n alla n È minore o uguale a 3 Ok? Cosa possiamo dire? Che il limite Che il limite In questa successione Esistere è finito Esistere è minore o uguale a 3 Poi in realtà non sarà 3 Sarà più basso Lo chiamiamo E E abbiamo scritto l'altro 8 2,718 Ok Che la successione monotona crescente è limitata dall'altro Dice Ma è limitata dal basso Non serve Un limite dal basso È ovvio Che è una successione monotona Non decrescente Allora come funzionerà? Se la successione non è crescente Che succederà? Quindi la successione tende a scendere Secondo voi che succede? Ci sono due casi possibili O la successione è limitata inferiormente Quindi c'è l'estremo inferiore In quel caso Il limite È uguale All'estremo inferiore Scende, scende, scende L'estremo inferiore per esempio è uguale a meno 3 Il limite è uguale a meno 3 Se invece non è limitata inferiormente Il limite quanto farà? Meno infinito Quindi una successione che sale O se ne va In ogni caso se ne va all'estremo superiore Per quale motivo? Se vi ricordate L'estremo superiore di un insieme non limitato superiormente Lo poneramo a più infinito Quindi Quando abbiamo scritto questo Ebbè Qua è la dimostrazione Abbiamo cancellato il Il Lo posso riscrivere qua Possiamo scrivere così Che se a con n È monotona non decrescente Allora il limite Di a con n È uguale all'estremo superiore Di a con n Scriviamo così Anche qui è un'abbreviazione Sarebbe l'estremo superiore L'unità dell'insieme di a con n Dalle che n A con n Però Così è tutto Se invece la successione È monotona non crescente Allora il limite Allora il limite A chi sarà uguale L'abbiamo appena detto A chi? All'estremo inferiore Va bene Va bene Oh Fino a qua Penso che non ci siano Grandi dubbi Ora Vediamo un po' Dove sono se riusciamo a fare qualche altra cosa Se abbiamo qualche cosa Se abbiamo qualche cosa Ho nella Nel dimostrare questo teorema Nel dimostrare questo teorema Abbiamo usato Le cosiddette proprietà caratteristiche Prendete un insieme Vale la pena di enunciarle A parte Però in realtà È giusto come In prova in memoria Perché il ragionamento è immediato Allora Prendiamo un sottinsieme E di R Quando è che l'estremo superiore di E E È uguale a lambda Numero reale Se vi ricordate Questo vuol dire che E deve essere limitato superiormente E lambda deve essere il minimo di maggioranza E non vuoto eh Allora Allora La prima proprietà è che Che x sia minore o uguale a lambda per ogni x appartenente a E La seconda proprietà è che per ogni y maggiore di 0 esiste x appartenente a E Tale che x sia maggiore di lambda meno E E qua devo dire Questo deve essere Abbiamo detto Il minimo di maggioranza Quindi questa proprietà Mi dice che lambda è un maggioranza Questa proprietà Mi dice che lambda Appena scendo sotto a lambda Lambda meno E Non è maggioranza Quindi il minimo di maggioranza è lambda E viceversa E viceversa Se vale questa proprietà Sicuramente lambda è un maggioranza E lambda è meno E Viceversa Se lambda è l'estremo superiore Chiaramente è un maggioranza E chiaramente lambda meno E Se lo vuoi È un ragionamento proprio semplicissimo Lo potete fare Invece L'estremo superiore Di E Fa più infinito Se solo se Per ogni M Esiste x appartenente a D Tale che x è maggiore di D Quando è che fa infinito Quando l'insieme non è limitato Praticamente è un mettere In bella forma Cose che già sappiamo Però Vale la pena Oh Se ci fate caso Noi abbiamo usato queste proprietà Perché Quando siamo andati a dimostrare Abbiamo usato la successione Diciamo La definizione di estremo superiore Della successione monotona Nel caso in cui fosse Per esempio limitata superiormente Abbiamo detto Per ogni E Esiste A con E A con E Tale che A con E sia maggiore di lambda meno E Cioè questo deve essere per forza Appunto Lambda meno E Non era Maggiorando Non era Diciamo era più piccolo Quali sono le proprietà caratteristiche dell'estrema inferiore? Ma queste le scrivo anche se In realtà Potreste scrivere da soli L'estrema inferiore Di E E uguale a Chiamiamolo lambda piccolo Appartenente a R Se Solo se Qual è la prima proprietà? Vediamo un po' Chi ha l'estrema inferiore? L'estrema inferiore è il minimo dei maggiori L'estrema inferiore? Il massimo dei minori Quindi Maggiori Maggiori Questo ci dice che lambda piccolo è minorante L'altra Per ogni Epsilon Maggiore di 0 Esiste X Partenente a D Tale che X minore X minore Di lambda piccolo Invece l'estrema inferiore Fa meno infinito Fa meno infinito Se solo se Però niente Esiste un X appartenente a E Tale che X minore di Tra ogni M minore Eh? Ok? Vabbè Vabbè Queste qua Vale la pena Di scriversene una volta Così uno Lette Come dire Inquadra Nel quadro generale Ok? Oh Adesso Dove vengono i problemi? I problemi Nascono Nel momento Nel momento in cui noi Cerchiamo di estendere Le proprietà algebriche Dei limiti Alle successioni divergenti Qua nascono i problemi Perché nascono questi problemi? Innanzitutto Perché Dobbiamo Fare il caso In cui le successioni Che andiamo a fare Somma, prodotto eccetera Possono anche divergere Allora Per trattare questi casi Appunto Abbiamo aggiunto Due simboli Più infinito E meno infinito Allora Per prima cosa Prima di fare ogni ragionamento Sulle successioni Andiamo a Parlare Di retta reale ampliata Chi è la retta reale ampliata? Chi è la retta reale ampliata? Allora Allora La retta reale ampliata A volte si indica con R Con la barra sopra Non è altro che R Unito A questi due simboli speciali Meno infinito e più infinito Che è sempre più piccolo di x Che è sempre più piccolo di più infinito Per ogni x appartiene ai 6 Diciamo i confronti tra i numeri reali rimangono quelli di qui Quindi Più infinito è il più grande di tutti Nella retta reale ampliata Ovviamente Noi la retta reale ampliata Non è che la possiamo disegnare Perché Poi dobbiamo più infinito qua Meno infinito qua Perché più infinito è più grande di più numeri reali Meno infinito è più piccolo di più numeri reali Però Non è una Ce l'immaginiamo più che disegnare Un elemento che sia più grande Oh Qual è il problema? Che questo insieme qua Non è Un co Cioè non si possono dare Le stesse proprietà algebriche Conmogendo gli infiniti Per quale motivo Quanto fa più infinito più 5? No Non fa più infinito Quando dite che più infinito più 5 fa più infinito Quello è L'abbreviazione di un teorema che vedremo oggi stesso più avanti Ma non fa più infinito Perché altrimenti Vi dimostro subito che viene un assurdo Allora L'infinito più 5 fa più infinito E chi è l'opposto di più infinito? In un campo Ogni elemento deve avere l'opposto Chi può essere l'opposto di più infinito? Meno infinito Allora aggiungiamo Meno infinito Più infinito Più 5 Uguale meno infinito Più infinito Posso aggiungere la stessa quantità a sinistra e a destra L'uguaglianza rimane valida Ma questa qui Grazie all'associatività Me la posso fare così Quanto farà meno infinito più infinito? Ah, fa 0 Allora ottenete Che qua avviene 5 E qua avviene 0 Non si può fare Non si può fare la somma E il prodotto Con gli infiniti Non si possono fare In maniera tale da rispettare le proprietà di campo Un solo fa E' impossibile Quindi Tra l'altro qua Avete fatto ben più di un volo pindarico Perché Quando diciamo che più infinito più 5 fa più infinito Avrà un senso ben preciso Significherà che se una successione tende a infinito L'altra successione a più infinito L'altra successione che tende a 5 La successione somma tende a più infinito ma non significa che L'operazione più infinito più 5 si possa fare Ma poi Ammesso anche che vogliamo dare un senso a quest'operazione Non possiamo dire che l'opposto di questo è Di più infinito e meno infinito Perché Perché altrimenti vedremo che quando una successione tende a più infinito e un'altra successione tende a meno infinito quella non era diciamo la somma non tendeva a zero la somma è una forma indeterminata vedremo che la successione somma può fare quello che gli pare può convergere, può divergere, può non convergere chiaro? quindi fate attenzione qua questi simboli sono comodi per fare determinate cose ma non ci possiamo fare tutto per esempio non ci possiamo fare le operazioni possiamo fare solo determinate operazioni in determinati contesti con un significato ben preciso quindi certo scriveremo più infinito più 5 uguale più infinito ma non significa che io stia facendo questa somma significa che se avrò una successione che diverge positivamente o una funzione che diverge positivamente e se avrò una successione una funzione che converge a 5 la successione funzione somma divergerà positivamente è chiaro questo fatto? vi deve essere scolpito nel cervello ok allora facciamo solo un lemma e poi ci fermiamo facciamo un mancano ancora due minuti lemma prendiamo A con N e B con N due successioni di numeri reali poi supponiamo che il limite di A con N sia più infinito supponiamo che B con N è limitato inferiormente allora il limite della somma della successione somma fa più infinito allora vedete anzi la dimostrazione la faccio dopo la pausa però voglio discutere soltanto l'enunciato allora ce n'abbiamo una che diverge positivamente qual è l'unico comportamento che può mettere in pericolo questo falce il fatto che la successione somma diverga positivamente posso avere problemi solo se B con N non è limitato di pericolo cioè questa se ne va infinito ma alcuni dei B con N potrebbero andare a minimo allora potrei avere problemi altrimenti se questo non succede se B con N per esempio è maggiore o uguale di meno 1000 la somma la successione somma sicuramente diverge positiva perché la dimostrazione è un rigolo la facciamo dopo la pausa